L'aumento e quindi la sempre più crescente presenza di blatte in varie zone della città di Battipaglia con lamentele segnalazioni dei cittadini ha spinto l'intervento concreto dell'opposizione. La delicata questione arriva in comune con la richiesta del consigliere d'opposizione Alessio Cairone all'amministrazione retta dalla sindaca Cecilia Francese di procedere ad un celere intervento di deblattizzazione. Nella missiva inserita nel protocollo comunale Cairone fa riferimento alla presenza di blatte in gran numero, in particolare nelle periferie zone spesso dimenticate. Vi posso garantire che nelle ultime settimane c'è un'elevata presenza di blatte soprattutto per le strade e nelle abitazioni. I cittadini sono davvero stanchi.